Mentre Piacenza splende grazie alle luci natalizie fra le strade, brillano anche le stelle della solidarietà. Il periodo facilita tutto, ma sono davvero tante le iniziative sul territorio che aprono alla beneficenza, valori che si intrecciano con quelli dello sport. Quindi non è un caso che un ex portiere di Serie A come Astutillo Malgioglio, premiato nel 2021 dal Presidente della Repubblica Mattarella per il suo impegno nell'assistenza ai bambini affetti da distrofia, sia un campionino in entrambi i campi. Fra le tante iniziative che Tito porta avanti da ormai più di 40 anni, stavolta ha sfruttato la sponda della sorella Marina per lanciare una lotteria benefica fra i premi set di Thun, cesto natalizio alimentare, bottiglie di vino, che porterà ad una donazione per le suore del Buon Pastore di Via Mazzini, impegnate nell'accoglienza di giovani donne e mamme in difficoltà. Grazie all'aiuto di Fabrizio Milani, gestore della caffetteria Milani al centro commerciale gotico, i 90 numeri del tabellone sono andati presto esauriti. È una lotteria che in pochi giorni è andata esaurita, quindi la risposta del De Piacentini è stata, è anche molto vivace perché in pochi giorni abbiamo già riempito quasi tutte le caselle, questo è il quarto anno che la facciamo in collaborazione con il nostro amico Maggioio, la risposta è sempre stata, ma quest'anno devo dire più cedere del solito, e quindi questa cosa ti ha sicuramente fatto piacere, è andata bene, la raccolta è andata bene, adesso attendiamo solo il vincitore, diciamo così, vincitore simbolico perché poi chiaramente il messaggio non è tanto vincere il pacco ma è la beneficenza, chi l'ha fatto l'ha fatto proprio col cuore, ho visto proprio che hanno tutti voluto partecipare con entusiasmo appena hanno letto perché cos'era, chiedevano molte informazioni, io spiegavo per cosa fosse questa lotteria e tutti subito molto propensi a partecipare, io sono molto contento di questa cosa. Sotto agli mancavili baffi sorride anche Maggioio, sempre in prima linea, ma mai per mettersi in mostra. Devo dire che io in questo caso sono il fratello, perché è mia sorella che fa tutto questa iniziativa, io mi piace molto perché quando si fa per gli altri si guarda gli altri, è troppo importante e poi sono molto contento per il Fabrizio perché quando uno ha un potenziale sociale, dico, bisognerebbe tirarlo fuori, a volte si vergogna, si fa finta di niente oppure non ci si legge fino in fondo, nel cuore e quindi sono molto importante per lui che così comincia piano piano a intraprendere una strada e che potrebbe dargli molte soddisfazioni. Dopo le indicazioni dell'estrazione della ruota di Milano del 19 dicembre, le offerte raccolte alla caffetteria Milani saranno consegnate, insieme a quelle del comando della polizia locale, nella messa per San Sebastiano, patrono dei vigili urbani, del 20 gennaio nella chiesa di Sant'Antonino.